Analisi del sangue di circa 250 giovani e analisi delle acque e dei terreni di alcune zone dell'agro nocerino sarnese. Obiettivo? Cercare di comprendere appieno quanto e in che modo degli agenti inquinanti influiscano sulla salute dei cittadini. È stato presentato ufficialmente questa mattina presso la sede dell'AMDOT in via Libroia, nocera inferiore, il progetto di ricerca nato dal protocollo d'intesa tra la seconda Università di Napoli e il Comitato Ambiente e Salute Area Sarno. Questi dati poi dovrebbero essere diffusi sul territorio, quindi considerando quelli che sono le aspettative pure dei cittadini ed eventualmente poi avere un ritorno con le istituzioni con le quali bisognerà assolutamente dialogare e valutare la possibilità che o lo studio si estenda o che lo studio si estenda ma anche che si possano prendere delle misure eventualmente per cautelare al massimo il cittadino perché poi lo scopo fondamentale di questo studio è la salute del cittadino. Il compito dell'istituzione è sicuramente renderli noti e intraprendere le dovute precauzioni perché poi sicuramente i cittadini non dovrebbero usufruire di questi prodotti ma cercare quindi di intraprendere le iniziative per purificare e decontaminare le matrici analizzate. Le aziende, i cittadini, tutti, dobbiamo essere tutti interessati, è una cosa che deve riguardare tutti quindi non solo le aziende che sponsorizzano perché magari hanno sicuramente possibilità economiche diverse ma le istituzioni dovrebbero essere sempre in prima linea. Questo è un intervento che noi stiamo cercando di attuare localmente in tutto il distretto e che ci vede impegnati in modo particolare da qualche anno a questa parte. Abbiamo sposato questo progetto con grande interesse perché già da alcuni anni lavoravamo nell'ambiente.